Sono contento che posso avere questa possibilità, anche perché penso sia stato giusto così. E' per me importante continuare a stare insieme al gruppo, perché in questo momento è determinante l'unità, l'unità di intenti. Abbiamo l'intenzione di conquistare tre punti, sapendo di affrontare una partita ostica, difficile, come lo sono tutti e come l'abbiamo sempre detto. Cercheremo dal primo all'ultimo minuto di ottenere questa vittoria in casa. Sicuramente ho avuto un confronto con l'arbitro, non mi era mai capitato. Forse ho alzato anche un pochino i toni e di questo posso anche chiedere scusa. Però penso che sia stato giusto annullare questa squalifica e permettermi di stare insieme al gruppo, che è quella la cosa più importante. Alterno, perché so essere pacato, poi quando serve so anche essere diverso. In quel momento ho avuto una reazione, pensavo fosse giusta, ma ora non è più importante quello che è successo. È importantissimo che riesco a stare insieme al gruppo e che tutti insieme proveremo domani ad ottenere questa vittoria, che per noi è importantissima. L'obiettivo nostro è quello di riuscire a sfruttare questi turni casalinghi a partire dalla gara di domani. Penso che questo gruppo meriti sostegno da parte di tutti e penso che abbiamo le qualità per poter tornare a ottenere i risultati che abbiamo ottenuto nel giorno d'andata. Sapendo che le partite sono complicate, difficili, che nella durata possiamo diventare protagonisti. E quello è il nostro obiettivo della partita di domani. Conoscendo le insidie, conoscendo la qualità dell'avversario che arriva, con quale difficoltà arriva, con che mentalità arriva. Però noi, come hai detto bene te, abbiamo queste quattro gare casalinghe e per noi deve diventare un valore aggiunto poterle disputare in casa. E quindi dalla partita di domani vogliamo essere bravi a ricoinvolgere i nostri tifosi, a ricreare l'entusiasmo che ci ha accompagnato in tutto il giorno d'andata. Perché in questo rush finale sicuramente l'unità di intenti è quello che può fare la differenza. Se fossi un tifoso del Bari farei il possibile per sostenere i ragazzi. Perché penso che hanno dimostrato durante l'arco di questo anno, al di là degli errori che sono stati commessi, grandissima serietà e grandissima passione in quello che si sta facendo. Quindi i risultati ovviamente altalenanti, però penso che in un campionato così difficile, con la costruzione della squadra come è stata costruita la nostra, insomma con tante cose che conosciamo, penso che ci troviamo nella posizione in cui in tanti avremmo messo la firma per essere a questo punto del campionato. E il nostro obiettivo è quello di credere, di provare a fare un qualcosa di grandissimo, stando attenti a tutto quello che succede nel campionato, però sapendo di avere le qualità per poter continuare a fare quanto di buono stiamo facendo. Quindi credo che questi ragazzi meritino il sostegno nella gara, poi alla fine ognuno è libero di poter esprimere il proprio pensiero. Però penso che nei 95 minuti per riuscire ad ottenere qualcosa di importantissimo ci sia bisogno del sostegno di tutti quanti. Io al di là dei contratti che per me sono sempre contati molto poco, perché mi piace lavorare pensando come se durassi un giorno, però quotidianamente lavorare come se dovessi rimanere per tantissimi anni, quindi metto ogni giorno tantissima passione, provo a fare il massimo di quello che mi viene chiesto e penso che stiamo facendo delle cose importanti. Ovviamente non ci dobbiamo mai accontentare e in questo rush finale dobbiamo schiacciare l'acceleratore, perché abbiamo le possibilità per poter accelerare, provando ad andare il massimo per non avere nessun tipo di rimpianto, comunque vadano queste partite. E' in prospettiva? E' in prospettiva, poi lo vedremo quando sarà il momento di vederlo.